La differenziata non va in vacanze, il titolo della campagna di sensibilizzazione promossa dalla SRR Auto Agrigento Ovest in collaborazione con i comuni e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio per affrontare l'emergenza dei rifiuti nelle spiagge. Prima tappa venerdì 21 giugno a Sciacca nella spiaggia di San Marco, sabato 22 giugno appuntamento al Sovareto, poi il 29 giugno sarà la volta di Portopalo a Menfi, il 6 luglio la campagna di sensibilizzazione si svolgerà nella spiaggia di Secca Grande a Ribera e il 13 luglio si concluderà nel litorale di Eraclea Minua. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. È una campagna promossa dall'SRR in collaborazione con i comuni soci. Ovviamente l'obiettivo è molto nobile perché anche durante il periodo estivo, anzi principalmente durante questo periodo, dobbiamo cercare di sensibilizzare tutti i bagnanti, i turisti e i cittadini a cercare di tutelare il nostro patrimonio marino e le nostre spiagge indubbiamente. Quindi abbiamo messo in campo questa campagna di sensibilizzazione. Saremo nei cinque comuni che fanno parte del nostro ambito, che hanno delle località balneari. Inizieremo il 21 giugno proprio da Sciacca. La raccolta differenziata ha raggiunto percentuali importanti anche nelle nostre zone, però non ci si ferma, ci si pone sempre nuovi obiettivi immagino. Indubbiamente il nostro impegno e il nostro lavoro è quello di continuare a potenziare tutto ciò che può garantire una tutela dell'ambiente e del territorio, ma anche fornendo infrastrutture con gli impianti, con l'impiantistica. Il nostro impegno in questo senso è corposo e importante, tant'è che già da alcuni giorni abbiamo riaperto la discarica di Saraceno-Sorinella e sicuramente questo rappresenta un fatto significativo, ma andremo avanti con la gara d'appalto per la nuova Pasqua che ci darà respiro per i prossimi 15 anni. L'obiettivo adesso riguardo agli impianti è quello di ottenere fondi anche per il centro di compostaggio. Sì, abbiamo raggiunto questo primo step sulla discarica, adesso ci concentreremo e abbiamo già parlato con il Governo regionale, con l'assessore Di Mauro e col Presidente della Regione, stiamo insieme un attimo valutando e monitorando la linea di intervento di finanziamento per quanto riguarda l'impianto di compostaggio. Ogni giornata di sensibilizzazione prevede un'attività di volontariato che consiste nella pulizia del tratto di spiaggia dove si svolge l'evento e in laboratori curati dalle associazioni che partecipano all'iniziativa. Ai partecipanti verranno donati dei gadget. Noi siamo contenti di poter partecipare a questa iniziativa, la differenziata non va in vacanza. Marevivo ovviamente copre un ruolo importante in quanto attraverso dei piccoli gesti facciamo capire quanto è importante il messaggio di riciclare per salvaguardare il nostro mare. Noi ci occupiamo di mare a 360 gradi, quindi non potevamo rifiutare questo impegno in questo progetto. Saremo presenti nelle iniziative che saranno coinvolte qui a Sciacca come educazione ambientale, ma vi invitiamo tutti a presenziare il 13 luglio nella spiaggia di Cattolica Eraclea dove allestiremo e faremo il nostro Blue Day. Sono delle attività rivolte ai più piccoli ma anche ai grandi su educazione ambientale, su come conoscere questo nostro mare perché in realtà noi non lo conosciamo abbastanza, alcune semplici regole per proteggerlo. Quindi da come iniziare a ridurre i rifiuti, da come riciclare, l'importanza di riciclare ad oggi, veramente ricicliamo davvero troppo poco e quindi azioni di responsabilità che ognuno di noi può fare. Quindi essere protagonisti in prima persona per difendere questo nostro mare. Grazie. 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 Grazie.